Ciao a tutti! Oggi parleremo dei migliori tapis Rulam pieghevoli su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link dei migliori tapis Rulam pieghevoli che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più, ricordati di iscriverti al canale, e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte, sconti ogni giorno, link in descrizione. Iniziamo! Sportstech F10 Tapis Rulam pieghevole per casa marchio tedesco multiplayer AP1 HP DC, sotto i 68 dB, e velocità massima di 10 km orari, perfetto per allenamenti di running o camminata. Per utenti del peso massimo di 120 kg console compatibile con app, Kino Mapificio, con porta tablet e porta borraccia, controllo Tapis Rulam tramite smartphone o tablet, funzione musicale, statistiche individuali di allenamento. Con Kino Map e Sportstech iniziate subito il vostro allenamento di nuova generazione. Prova un fitness 2.0 con la console multimediale compatibile con l'app e il pratico porta tablet, superficie di corsa a 5 strati ad alta tecnologia e bande laterali extra per maggiore sicurezza. Inclinazione fino a diciottesimo grazie alla regolazione manuale dell'inclinazione a tre livelli. Kuluk Tapis Rulam pieghevole, elettrico, display LCD ampio e luminoso con indicazione di, tempo, distanza, battito cardiaco e calorie, nove programmi di allenamento preimpostati. Inclinazione elettrica da 3-15 impostazioni, motore con potenza 2.0 HP, velocità regolabile 1-14 km orari, Tapis Rulam di nuova generazione Kuluk BMW 4300, 2.OHP, riproduzione di musica MP3, casse acustiche e inclinazione elettrica da 0 a 15 posizioni. Riboc Iran 3.0 Tapis Rulam. Progettato per adattarsi al vostro ambiente, il profilo ultracompatto di Iran 30 si ripiega sia in piedi che in piano. Ottimale per corridori da principiante a intermedio, l'Iran offre prestazioni solide con il suo motore da 15 cavalli vapore che raggiunge i 13 km orari, con un'imbottitura in elastomero in otto pezzi. La pedana del Tapis Rulam ammorbidisce il colpo di ogni falcata con due livelli di inclinazione manuali per variare l'allenamento. Con 12 allenamenti preimpostati e 3 programmi target. La console Iran tiene traccia dei vostri allenamenti con sensori del polso della mano per un allenamento ottimale della frequenza cardiaca. Inoltre, dotata di altoparlanti integrati e ingresso MP3, la console di bordo vi intrattiene mentre vi allenate. Fornito completamente assemblato, il Tapis Rulam ultracompatto è pronto all'uso in pochi minuti. Basta disimballare, srotolare e si è pronti per l'allenamento. L'Iran si ripiega in pochi secondi per essere conservato dopo l'allenamento. Con i sensori di pulsazioni della mano integrati, la console di Iran consente di monitorare il polso per un allenamento efficiente. Xiaomi Walking Pad R1 Pro, Tapis Rulam pieghevole versione UE, design unico pieghevole. Il materiale in di alluminio integrato viene utilizzato come struttura di base per una maggiore durata e stabilità. Non preoccupatevi del rumore durante la corsa sul Walking Pad R1 Pro, della stabilità e della durata, queste caratteristiche offrono una grande sensazione durante l'allenamento. Piegatura a 180 gradi, riduce notevolmente l'area occupata. Può essere conservato in posizione verticale. Corri mano telescopico per proteggere gli utenti in modalità di corsa. Quando il corrimano è verticale, la velocità può essere fino a 10 km orari. Se il corrimano è orizzontale, la velocità può essere fino a 6 km orari. Monitoraggio dell'attività. È possibile utilizzare il telecomando o l'app KS Fit per controllare la velocità. Monitoraggio dell'attività fisica per tempo, velocità, passi e calorie. Due modalità di monitoraggio della velocità, A ossia automatico, M ossia manuale. Esercizi in ufficio, vi fa male la schiena dopo tre ore davanti allo schermo? Godetevi una perfetta esperienza di camminata e di lavoro con la modalità R1 Pro. E lo si può facilmente posizionare accanto alla scrivania quando non lo si utilizza. Sportstech 1F Cubotapis Rulam Professionale. Velocità di corsa fino a 16 km orari, grazie a una potenza continua di 2 HP con una potenza di picco di 4 HP. Motore DC di alta qualità e di lunga durata con funzionamento a bassa rumorosità inferiore a 75 dB. L'ampio schermo LCD di 14 cm con luce blu di sfondo permette di tenere sotto controllo tutte le informazioni importanti relative al tuo allenamento. Goditi l'allenamento grazie all'attacco OMP3 con uscita stereo e o con il tuo tablet a portata di mano, grazie all'apposito supporto, con KinoMap e Sportstech, inizia subito il tuo allenamento di nuova generazione. Prova l'onfitness 2.0 con la console multimediale compatibile con le app e il pratico porta tablet. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento? Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto, e se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace, alla prossima!